Non è una digressione perché è contestuale al nostro impegno, al nostro lavoro, anche il piacere ci dà questo lavoro come opportunità di parlare di bellissime iniziative. Operation Smile, noi ne parliamo col dottor Domenico Scopelliti che ringraziamo. Dottor Scopelliti, buongiorno per essere qui. Iniziativa, allora, dal prossimo 4 febbraio, da sabato prossimo a Roma, il progetto Sorrisi in Italia che avrà come obiettivo che cosa, dottor Scopelliti? Ma noi abbiamo un'organizzazione ormai con un'esperienza trentennale, abbiamo operato oltre 180.000 bambini in 64 paesi nel mondo e ci siamo accorti dall'ultima esperienza fatta in Guatemala dove abbiamo operato 125 bambini. Prima di Natale che molti bambini, molte famiglie, cominciavano a rivolgersi a Operation Smile per avere risposte, per sapere se anche qui noi in Italia avevamo una maniera per dare loro attenzione e quindi trattamenti. Ci è venuto in mente che effettivamente questo per noi era possibile e quindi con un accordo con una casa di cura privata romana, la Sanatrix, siamo riusciti a chiudere questo cerchio. Abbiamo decine e decine di volontari che sono disponibili, la casa di cura è messa a disposizione a titolo gratuito, quindi anche questi bambini con malformazioni nel viso e non solo bambini ma anche adulti, perché ricordiamo che questo tipo di malformazioni sì, devono essere trattate precocemente, devono seguire protocolli di qualità e di attenzione pressoché immediati o comunque eseguiti prima possibile, però poi il bambino cresce, diventa adulto e ci sono tutta una serie di problematiche che possono venire fuori. Quindi questa è un'iniziativa che tende non solo a fare una sorta di missione, a me non piace chiamarla missione ma proprio un'attività necessaria, ma che vuole iniziare un percorso di assistenza continuativa, che in questo momento diciamo in Italia è abbastanza frammentato. Allora, stiamo a parlare perché poi il termine, mi corregga se sbaglio, il termine medico è dell'affezione che colpisce questi bambini, labio palatoschisi, più volgarmente conosciuto come il labbro leporino. Esattamente. Malattia che da un punto di vista genetico dell'origine dipende da che cosa? Ha detto giusto, è una malattia che ormai si è scoperto essere responsabile a un gene o a un gruppo di geni che codificano per degli errori nella formazione dei tessuti, quindi si realizzano queste condizioni diciamo dismorfiche, queste alterazioni proprio di diffusione dei tessuti, caratterizzate proprio da una fessura nel labbro che può essere monobilaterale e interessare l'arcata dentale, tutto il palato duro e poi anche quello molle. Quindi non è un'affezione di tipo estetico, quindi non è solamente l'aspetto brutto, è proprio che la malformazione è in grado di inficiare funzioni importanti come la parola, la respirazione, la fonazione, l'articolazione corretta della parola, la deglutizione normale, quindi anche l'alimentazione corretta. Quindi sono patologie che in molti paesi rappresentano tra l'altro un segno di marginazione importante perché la discriminante, diciamo, di aspetto fa sì che questi bambini vengano considerati come colpiti dal demonio, una maledizione divina. Ho visto il vostro sito India, mi sembra di capire qualcosa del genere? Beh, soprattutto nei paesi dell'Africa, nei paesi africani, nel Sud America, questa sensazione, segna una sorta di grande marginazione sociale. Esatto, esatto. E costringe non solo i bambini ma anche le famiglie a vivere una vita totalmente marginata che non è assolutamente paragonabile a una vita normale. Parlare di questa malattia con un riferimento geografico nell'adozione planetaria del termine ci pone anche una scontata, legittima curiosità. Ci sono delle parti del mondo dove questa malattia è geneticamente più presente? Sì, perché appunto geneticamente vuol dire anche legato a una razza, non è ereditaria. O meglio, molte forme non sono necessariamente ereditarie, quindi non sono trasmissibili da padre o da madre a figli necessariamente. Alcune forme sì, ma sono forme sindromiche. Però ci sono alcune razze che sono più predisposte, come la razza asiatica. In India o in Cina c'è un'incidenza maggiore rispetto ad altri paesi. Se pensiamo che appunto, se parliamo di numeri, uno su 400 nati in India nasce colpito da una malformazione. Quindi sono numeri impressionanti. In molti paesi rappresenta un vero e proprio problema sociale. Questo è l'aspetto che poi... Io sono sul sito e se mi autorizza lo linkiamo subito sul nostro account. Grazie. Perché qui si presenta un mondo. Abbiamo tutti bisogno di un mondo migliore. La medicina, i medici riescono a dare delle risposte in concreto assolutamente importanti, tangibili. Questa è lei? Sì, questa è l'iniziativa. Questa è l'iniziativa che appunto... Non perdi, il fascino resta inalterato. Sia in borghese che in divisa professionale. Guardi, siamo tantissimi. Ogni volta che tocca in qualche maniera a me, perché ne sono in qualche maniera il responsabile scientifico, ancora per poco perché questo ruolo ci tengo che venga proprio in alternanza passato a persone che hanno la stessa passione, la stessa competenza per poter fare questo tipo di lavoro. Non voglio mai che questa organizzazione si identifichi con una persona. Quindi siamo veramente tantissima gente. Sono oltre 7.000 i volontari che lavorano in tutti i paesi, in 64 paesi. E già in Italia abbiamo oltre 130 persone che con assoluta competenza e dignità la rappresentano anche molto meglio di me. Vedo Luca Barbarossa che tra l'altro nel 92 vinse il Festival di Sanremo in quell'edizione con una delle canzoni più belle e forse più italiane. Portami a ballare, sempre il rapporto tra madre e figlio. Luca sostiene? Sostiene, non solo si sostiene, sostiene proprio materialmente la nostra organizzazione, ha fatto diversi concerti per noi, ma Luca ha fatto una cosa meravigliosa, ci ha regalato una colonna sonora. Quindi se avete modo di vedere il nostro sito o qualche nostra presentazione è sempre la colonna sonora di Luca Barbarossa che ci ha donato una canzone proprio fatta apposta per l'attività che svolgiamo. Sabato 4 febbraio cosa succede? Lo abbiamo capito. Come possiamo interagire a questa iniziativa? Intanto già il fatto che se ne parli è un dovere. Piacere, o metto sempre il termine, è piacevole conversare con lei, purtroppo il tema che trattiamo è tutto forché piacevole. Certo, ma questo è un mezzo per raggiungere anche quelle famiglie che ancora non hanno avuto risposte o che ancora non hanno risolto definitivamente questo problema ed è un'opportunità che noi stiamo avendo per poter informare che questa attività inizia, ma inizia non con le caratteristiche di una missione cioè che inizia e finisce in una settimana. Questa attività inizia e continua perché noi dopo questa settimana, un fine settimana al mese, fino a quando non cambieranno le cose, noi saremo lì ad aspettare i bambini, a operarli, a seguirli, a dargli suggerimenti, consigli, indicazioni terapeutiche ed è tutto il team di Operation Smile, quindi non solo chirurghi ma anche anestesisti, pediatri, odontoiatri, ortodontisti, logopedisti, tutto quello che serve proprio anche nella fase di crescita del bambino per poterlo condurre a una vita pressoché normale. Io vedo una cosa, prima di salutarla abbiamo ancora un paio di minuti. Queste sono mamme africane, siamo nel Centrafica, molto probabilmente, visto anche il carattere somatico delle donne e dei bambini. Questa è Gana. Gana, bellissime. L'ultima missione. Lì però c'è un problema di fondo a proposito di approccio culturale perché lì c'è una sorta di misticismo verso la stregoneria, quindi l'impatto deve essere anche di formazione. Assolutamente, ma infatti organizzare una missione in uno di questi paesi comporta uno sforzo, soprattutto organizzativo, di un anno. Quindi nel momento in cui noi iniziamo un'attività cerchiamo anche di avere una sostenibilità che ci consente di operare per almeno cinque anni perché non è solamente quello di andare in questi paesi e di operare ma soprattutto quello di creare le condizioni di sviluppo, di autonomia, di autogestione, quindi investire molto nelle risorse umane e locali perché immagini in un paese come l'India dove noi operiamo in una settimana 500 bambini e ne vediamo 1200, gli altri 700, poi chi li opera e quando? Quindi noi dobbiamo investire nella formazione, nella creazione dei centri di eccellenza locali, dobbiamo investire proprio nelle infrastrutture, dobbiamo sostenere questo tipo di sviluppo. Diversamente è una battaglia persa perché i numeri raccontano questo. Si può fare molto, si può fare molto privandoci di un caffè, di una, non lo so, ognuno poi credo che a tutti un sistema è una risposta personale rispetto a un problema, anche a una sollecitazione, a un invito. Noi abbiamo linkato la pagina di Operation Smile proprio sul nostro account redazionale, Fondazione Operation Smile Italia Onlus. Noi abbiamo avuto il piacere di avere avuto qui con noi il dottor Domenico Scopelliti che lui non vuole responsabilmente, cavalleriscamente non vuole, anche perché da uomo intelligente sa che più si coinvolgono i bravi collaboratori e più si dividono le responsabilità. Quindi ci vuole una responsabilità collegiale per affrontare un'operazione di questa portata. Io non posso che farvi i complimenti, ovviamente approfitto della sua presenza per farli a lei, sarà lei poi a riportarli ai suoi collaboratori. Da sabato prossimo parte a Roma il progetto Sorrisi in Italia che avrà come obiettivo il trattamento chirurgico gratuito in favore dei bambini adolescenti e giovani adulti residenti nel nostro paese affetti da labio palatoschisi e da gravi malformazioni facciali. Insomma, iniziativa più bella non potevamo promuovere, questo grazie alla Fondazione Operation Smile che ricordo essere anche Italia Onlus. Cambiamo la vita, un sorriso a volte può fare questo miracolo. Dottor Scopelliti, grazie di cuore e complimenti per tutti. Grazie. Grazie.